Si sono concluse le due giornate di lavoro dell'Assemblea Generale ECG, parliamo dell'Associazione dell'Industria e della Logistica a livello europeo internazionale e dei conduttori di veicoli. Telegram Ducato anche quest'anno ha seguito i lavori già dalla giornata di ieri, giovedì 23 maggio, come vediamo dalle immagini del nostro operatore Angelo Serrantoni. Adesso la conclusione, il bilancio di un'occasione importante di network, di incontri, di confronti tra i vari operatori nel settore della logistica a senso ampio, ma sentiamo il bilancio di queste due giornate da parte del Vice Presidente ECG Borna Zwingsten. Qual è il bilancio dei due giorni di conferenza ECG? Innanzitutto è un piacere essere qui a Sorrento, ringraziamo per l'ospitalità di questa terra, ci stiamo trovando molto bene. Allo stesso tempo è un piacere, come al solito, incontrarsi con tutti i membri di ECG e discutere di temi comuni, come per esempio la digitalizzazione e di parlare delle sfide del futuro, perché ovviamente anche la nostra industria si deve trasformare, deve cambiare e migliorarsi con il tempo. La più importante sfida nel mondo della logistica che verrà affrontata probabilmente nella prossima Assemblea di ECG. La più importante per il futuro è diventare più efficiente, per ottimizzare tutti i processi. In particolare ci sono varie sfide, per esempio nel settore marittimo ci sarà l'introduzione di una nuova regolamentazione che prevede la diminuzione di emissioni di solfuro a livello mondiale, quindi nel settore marittimo tutti gli attori dovranno essere coinvolti e rispettare le nuove legislazioni che saranno introdotte. Ulteriori approfondimenti nel sito di Telegram Ducato, nel sito del messaggero marittimo e poi tutti i contributi anche nelle prossime edizioni della nostra trasmissione dedicata alla questione della portualità Porto all'Orizzonte.